Eccoci qua pronti con i nostri amici, amici ospiti qui a Radio Studio 95, gli amici dell'Associazione Culturale, amici di Raffaele Caserta, gli amici che saluto intanto, buongiorno a Pasqualina Pace, buongiorno a Carmelo Fedele. Grazie, grazie a voi. Eccoli qua. Allora, di loro parleremo di questa quarta edizione giornata di Beneficenza, in occasione della quarta giornata di Beneficenza che si svolgerà domani, lunedì 12 dicembre 2016, dalle ore 9 alle ore 15 presso la Sala Multiculturale Ex Mercato Coperto di Merito Portosalvo. Di questo ci parlerà naturalmente di tutta la serata, di tutta la giornata, lo svolgimento di questa manifestazione Pasqualina, Pasqualina Pace. Ecco. È stato fatto negli anni scorsi, per quattro anni, ai diversamente abili, ai degenti, agli assistiti delle varie strutture presenti nel nostro territorio. Da quest'anno si è pensato, scusatemi, anche sia per l'uomo che per donna. Quest'anno la novità diciamo che è stata introdotta è che sarà effettuato questo servizio di acconciatura anche ai cittadini bisognosi e quindi non solo alle persone presenti nelle strutture del nostro territorio. Quest'anno il ricordo del nostro Raffaele abbiamo pensato, proprio perché lui era una persona umile e comunque attenta ai bisognosi, non solo di effettuare questo servizio di acconciatura, ma si è pensato di inserire un momento dedicato ai bambini, lui era un amante dei bambini, non solo li faceva divertire ma si divertiva anche lui con un sorriso veramente brillante che riempiva le giornate, anche di chi gli stava attorno. Quindi da quest'anno, anzi quest'anno, dalle 16 alle 18, sempre presso l'ex mercato coperto, la sala multiculturale, ci saranno dei giochi e animazioni dedicati ai più piccoli organizzata dall'associazione Insieme Per. Ci saranno dei gonfiabili e tante tante attività per fare divertire i nostri bambini. La serata poi si concluderà con un rinfresco. Speriamo di vedervi numerosi, anzi vi aspettiamo numerosi. Quindi quest'anno avete pensato di cambiare un attimino un po' da come si era programmato tutto quanto. Quindi c'è anche appunto, questo servizio va anche ai cittadini bisognosi presenti sul territorio, quindi il taglio di capelli, insomma tutte queste cose qua. Gli altri anni infatti era stato pensato per i ragazzi o comunque per le persone presenti nelle strutture, ma anche per le persone che erano ricoverate presso l'ospedale. Quest'anno abbiamo cercato di aggiungere un qualcosa in più. E' una cosa bella questa che state facendo e poi questo angolo, questo spazio riservato ai bambini è una cosa eccezionale. Io quando parlo dei bambini mi commuovo, mi emoziono veramente e quindi voglio dire questa è una bella iniziativa. Sì, per farli divertire e sorridere. All'interno dell'ex mercato coperto. Niente, se vuoi aggiungere... Anche perché il salone, ripetiamo, era sempre pieno di ragazzi che venivano a tagliarsi i capelli da Raffaele. Ah, ecco, quindi sì sì sì. Lui questo gesto di caramelle sempre, non solo per i bambini, spesso si riprendevano i grandi. Era per i bambini soprattutto. Quindi Pasqualina ricordiamo la data che domani, 12 dicembre, dalle 9 alle 15 si effettuerà il servizio di acconciatura sia per uomini che per donne, come abbiamo detto, e poi dalle 16 alle 18 ci sarà invece questo spazio riservato ai nostri piccoli. Quindi no stop. No stop. Quindi tutta la giornata. Va bene, insomma, bella, bella iniziativa. Vi faccio i complimenti perché l'Associazione Culturale Amici di Raffaele non si ferma, ecco, vanno sempre avanti per la loro stade. È un'iniziativa che hanno preso subito dopo, purtroppo, la scomparsa del nostro caro amico Raffaele. E loro, memoria sua, ecco, state organizzando tutte queste manifestazioni che vi rendono veramente... Ringraziamo anche gli amici parrucchieri di Raffaele perché loro metteranno a disposizione tutta la loro professionalità e come lo hanno fatto in questi anni che ci sono comunque sempre accanto in tutte le nostre iniziative. Quindi un grazie particolare a loro che offriranno il loro tempo per queste persone. Bene, questo è per quanto riguarda la giornata di domani, lunedì 12 dicembre, dalle ore 9 alle ore 15 con i parrucchieri e poi dalle 16 alle 18 con i bambini. Adesso con Carmelo, Carmelo Fedele, parleremo della situazione della strada statale 106. Come siamo combinati in questo... Ma insomma, noi siamo stati a Catanzaro, verso la Regione Calabria, insieme a noi hanno partecipato il rappresentante per la Calabria, il comparto Vincenzo Marzi dell'ANAS, c'era anche presente l'assessore Lusmano della Regione Calabria e Trasporti, nonché Enza Abruzio, la Bossio, deputata della Commissione Trasporti alla Camera e consigliere comunale di Rossano. Si è parlato un po' dei vari tratti della 106, il tratto Cosentino, il tratto Catanzarese e quello Regino. Ci sono dei lavori da fare, sono stati programmati tanti lavori, anche se il tratto nostro, insomma, ho visto un po' trascurato. Il nostro, questo tratto da Melito Reggio? Sì, anche sull'Eonica. Purtroppo, non so, dall'alto quando decidono queste cose... Ancora purtroppo sì, registriamo incidenti mortali ancora. Sì, diciamo che ad oggi siamo a 26 vittime, a ieri 26 vittime, lungo le 106 i tre tratti che ho nominato prima, e sta a significare una vittima ogni 12 giorni, quindi siamo a 26... Un bilancio pesante, un bilancio pesante. Molti sottolineiamo per imprudenza, per velocità alta, nel guidare, insomma, non rispettare la segnaletica, ma molti di questi, anche per la mancanza di segnaletica, l'asfalto in regola, la mancanza di illuminazione verso questo tratto, insomma. E da questa riunione, insomma, abbiamo sottolineato il fatto che noi quando segnaliamo una criticità, l'emergenza, la straordinarietà di questa criticità deve essere subito sistemata. Questo purtroppo non succede. Noi abbiamo segnalato al bivio di Rocudi, c'è stato fatto, ringraziamo l'ANES, però ci sono passati un bel po' di mesi. Ecco, dopo che tre ragazzi sono andati a finire giù nell'alta carreggiata e un anziano, dopo qualche mese, lo stesso. Ecco, c'è un intervento straordinario, credo che ci sia... Quindi voglio... Deve essere subito, immediato, ma poi noi chiediamo, insomma, interventi che ci siano milioni di euro da spendere, insomma, ecco. No, appunto, io questo volevo chiederti, visto che voi, come associazione culturale, vi state veramente interessando alla 106, no? Ecco, però ancora non si è fatto nulla. Che si deve fare di più? Bisogna aspettare altri morti, insomma, altri incidenti. Noi segnaliamo... Più di quello che state facendo, giustamente. Abbiamo una cartellina piena di... Eh, appunto, di segnalazioni. Di segnalazioni anche all'amico Vincenzo Crea, il mio ex collega di Lazzaro, che fa parte di un'altra seduzione dell'Ancadic, molto attento, molto scrupoloso, ecco. Poi io ho trovato una discussione parlamentare datata 8 luglio 1950. Già solo... 1850? Sono problemi storici. 8 luglio 1950, dove, una discussione parlamentare, si chiedeva al Ministro di allora, al Ministro dei Lavori Pubblici, a che punto fossero i lavori della cosiddetta 106 Onia. Quindi siamo oggi, che siamo al... 2016. 2016. E adesso... Facciamo un po' i conti, voglio dire, quindi è una vita. È una vita. E questo gli chiedeva che era... A che punto erano i lavori? Sì, promessa, una 106 già promessa molti anni prima, insomma, ecco... Ad oggi, ad oggi non si è visto tanto. Poco, poco. Pochissimo. Ripeto, non chiediamo la luna, chiediamo le cose essenziali, insomma. Mettere in sicurezza, mettere in sicurezza, esatto. Lo so, ci sono le questioni parlamentari, le questioni di Stato, insomma, a livello economico, i fondi non ci sono, ci dicono sempre... Però ecco, questo non credo che... I fondi non ci sono, io dico che... Noi come associazione non importa, ecco, li devono trovare da qualche parte. Ma appunto, per mettere in sicurezza, per salvare altre vite umane, io credo che non... Perché bisognerebbe trovarli, questi soldi, insomma, in qualche modo farli venire fuori. Per tutte le altre cose ci sono, ma per mettere in sicurezza una strada dove, frequentatissima, giovani, meno giovani, insomma, si mette a rischio la vita di tante persone giorno per giorno. Io sottolineo anche il fatto che la sicurezza stradale va di palipasso con l'educazione stradale. Ecco, noi aspettavamo una telefonata, una telefonata in diretta, ecco, dal nostro... Pronto? Pronto, ecco, dal nostro Presidente, anche perché io volevo... Volevamo parlare poi, dopo l'intervento di Pasqualina e di Carmelo, ecco, del nostro Presidente Gaetano. Gaetano, saluto, ciao Gaetano, dove sei in questo momento? Ciao a tutti, mi trovo nella Capitale. Nella Capitale, a Roma. Nella Capitale, non a Roma, per qualche problemino, e purtroppo mi dispiace tanto non essere mi presente. Bene, ma loro ti sostituiscono bene, eh, quindi Pasqualina... Ciao Gaetano. Ecco, se volete mettere... Ciao zio. Ciao Valmelo, ciao, ciao, ciao. Ecco, lei lo sente, tu se non hai la cuffia non lo senti. Basta un saluto, insomma. Allora Gaetano, bene, il tuo problemino lo devi risolvere, eh, mi raccomando, perché noi abbiamo bisogno di te qua. Siamo qua per questo. Eh, mi raccomando. Mi raccomando, eh, abbiamo parlato comunque di questa quarta edizione, giornata di beneficenza, che ti vede assente quest'anno, eh? Sì, mi vede assente per questo problema, però sono molto buono. C'è sempre presente con la mente... Sono presente moralmente. Volevo, un attimino, che così poi stacco che devo rientrare... Sì. Niente, volevo ringraziare, innanzitutto, la mia associazione che si è messa a disposizione per questa, per questa, per questa, per questa giornata che andiamo a fare. Eh, ringrazio tutti voi, ringrazio tutte le associazioni per questa, in questa quarta, quarta edizione che stiamo facendo. Sperando che diamo un contributo, anche quest'anno, alle persone, alle persone più bisognose, come noi, ormai da quattro anni, ci stiamo rispondendo che vogliamo essere partecipi nel nostro piccolo, anche in queste piccole cose, presente nel nostro territorio. Piccole e grande cose, comunque, Gaetano, eh? Piccole e grande cose. Noi non facciamo cose che non ci competono, facciamo le nostre piccole, importantissime, perché... Volevo ringraziare anche l'amministrazione che ci ha, che ci ha, eh, naturalmente, concesso la, 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 la sala. E, niente, è stato il studio 95, naturalmente, eh, che se ne sento presente, eh, nelle nostre manifestazioni. e tutte quelle che ci stanno aiutando, una mano aiutando a Dio stesso, almeno una bellezza. Carmelo, quindi ti ringrazio, l'unica cosa che ti chiedo è quella che lo devi fare per tutti, devi tornare al più presto possibile perché noi ti aspettiamo. Sicuramente, un attimino solo volevo ringraziare tutti gli amici parrucchieri di Melo e Porto Salve che anche quest'anno hanno voluto veramente tutti costa fare questa quarta giornata. Le ringrazio uno per uno, anche se sono ancora lì presente e le abbraccio tutti. Certo. Gaetano, c'è Pasqualina che forse voleva dirti qualcosa, prego. Ehi zio, ciao. Ciao, ciao, io non ti chiamo. Spero che tu sia contento perché noi sappiamo che tu sei l'anima di questa associazione e noi facciamo tutti il tifo per te e ti ringraziamo perché per il tuo sostegno è anche lontano, va bene? Ti ringrazio, siete voi la porta di questa associazione e non c'eravate voi, questa associazione non potete... Siete voi che ci è stata, sì, e che mi date una grossa mano. Ti ringrazio veramente, un po' per ringrazio Carmelino Fedele. Che ti vuole salutare, Gaetano. Ciao Gaetano, presto ritorno nella tua melito e che il vicepresidente non può caricarsi tutte le cose del presidente. Sto scherzando ovviamente. In gamba. Ciao Gaetano. Io approfitto perché so che è una persona disponibile e una persona effettiva. E' sempre disponibile Carmelino, sempre, sempre. Carmelino è unico, è unico. Vero, vero. A me non ci dovrebbero essere tanti. Eh, va bene. Ti faremo sapere com'è andata poi questa manifestazione. Vabbè che tu già non dormi sicuramente perché... Non dormo. E' così scrupoloso. Domani mattina già lì all'alba sei lì con il telefono, che chiami, come sta andando, che state facendo. Mi raccomando, sapere. Sicuramente, sicuramente. Va bene Gaetano. C'è una bella giornata. Gaetano, noi ti ringraziamo, ti abbraccio veramente. Un saluto a tutti voi e buona giornata a tutti e buona. Bene, bene. Ciao Gaetano. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ecco, la telefonata del nostro caro amico presidente dell'Associazione Culturale Amici di Raffaele Caserta. Io con Gaetano diciamo che siamo stati sempre insieme, ci siamo cresciuti, quindi un po' di emozione vi chiedo scusa, ma comunque va bene. E niente, per chiudere adesso, se volevi aggiungere qualche cosa, Carmelo? No, stavo parlando a proposito della sicurezza stradale, deve essere sempre accompagnato dall'educazione stradale. Bisogna già dai nostri figli, dai nostri nipoti, dai piccoli, insegnare al rispetto delle regole sulla strada, così si possono evitare molti incidenti. Al di là del fatto che la 106 sia un po' sgangherata, passate nei termini. Certo, al di là di questo bisogna che soprattutto i più grandi insegnino ai giovani come guidare. Il fatto delle regole, l'indispensabile insomma, altrimenti io cammino a volte faccio qualche foto e vedo sorpassi doppi, in tripla, da brividi insomma, poi dico io combatto affinché si stiano le 106 e poi mi vedo uno che sorpassa in questo modo, ecco, va incontro alla morte, ecco così. Esatto, esatto, questo è importante. Volevo sottolineare proprio questo. Ai giovani che freschi di patente già pensano di essere Nichi Lauda, insomma, ecco, però non è così, non è così, bisogna stare attenti perché ogni metro di strada presenta mille pericoli, ecco, quindi bisogna stare molto molto attenti perché si rischia la vita, veramente. Niente, comunque, se vuoi aggiungere qualche altra cosa, ricordiamo ancora la data. Ricordiamo domani, domani vi aspettiamo dalle ore 9 alle ore 15 presso la sala multiculturale di Melito Portosalvo, l'ex mercato coperto, per questo servizio di acconciatura per le persone più bisognose, sia per uomo che per donna. E poi i bambini. Nel pomeriggio, sì, dalle 16 alle 18, ricordiamo questo spazio, questo appuntamento per i bambini, per i più piccoli, organizzato dall'Associazione Insieme Per, che li farà divertire e sorridere. Bene, e vogliamo sorridere adesso, tu sei il tifoso dell'Aventus? Sì, ma non è che io ne capisca molto, infatti, indico Carmelo, come... Io a Carmelo vi voglio tanto, ma tanto bene, guarda, veramente, l'unico difetto è un ragazzo perfetto, c'è quel difetto di essere... Piccolino... Vabbè, insomma, dettagli, sì. Ecco, per ridere, in questa chiusura, volevo le previsioni del derby di oggi, insomma. Ma diciamo, il derby è sempre una partita a sé, come si dice, però ecco, la Juve e la Juve non ci sono partite a sé. Un po' di presenza, un po' di presenza. No, no, a parte gli scherzi, insomma, il derby è una partita abbastanza tosta, quindi il toro è molto oriaceo, insomma, sta giocando bene, anche all'impronta del suo allenatore si vede, insomma. Però, alla fine, credo che la spunterà la Juve, insomma. Sicuramente, come sempre, in un modo nell'altro... Anche se la Juve quest'anno non sta giocando, insomma, un calcio spumeggiante, però, voglio dire, i risultati ci sono, perché quando in una squadra ci sono dei campioni, poi alla fine riescono a risolvere la situazione. Eh, va bene, dai. Bene, allora, abbiamo parlato della situazione attuale della 106, di questa quarta edizione giornata di beneficenza, che si svolgerà domani. E io vi invito ogni tanto a farvi vedere qui in radio e ci aggiorniamo un po' delle situazioni che stiamo, in questo periodo, vivendo. Vi auguro un buon Natale, buone feste. Sì, auguriamo anche noi, dell'associazione, insomma, auguro buone feste, di tanta serenità, soprattutto di salute, visto i tempi in cui ci troviamo, a tutta la popolazione di merito del mondo, insomma, in generale. Un particolare ringraziamento a voi della radio, insomma, che siete sempre vicini, molto vicini sia come associazione, come a tutto il territorio di merito, in questo tipo di situazioni un po' sul sociale, insomma, ecco. Bene, Pascolina, per chiudere gli auguri? Io auguro a tutti, tanti, un felice Natale e un inizio di anno sereno. E speriamo che sia un bell'anno, l'anno che arriva. Diciamo sempre, speriamo che l'anno che arriva sia sempre migliore. Lo diciamo sempre. Però poi... Ognuno di noi deve metterci del suo, affinché questo, insomma, accada. Che sia veramente un anno eccezionale. Esatto, esatto. Niente, grazie per il vostro intervento. Grazie a voi. Vi salutiamo, vi auguriamo intanto una buona domenica. Grazie. Grazie, a domani. E alla prossima. Alla prossima. Bene, ciao. Noi, voi non andate via, perché noi ancora per concludere abbiamo qualche minuto di tempo e poi ritorneremo per i saluti. A dopo.